Stava svolgendo dei lavoretti in un'abitazione che non era la sua incurante del provvedimento di quarantena che gli era stato imposto in quanto contatto di caso, ma è stato sorpreso e quindi sanzionato dagli agenti della Polizia Municipale nel corso dei controlli volti a verificare il rispetto delle regole anticontagio da Covid-19. È successo ieri nel centro di Cortona, l'uomo adesso dovrà pagare una multa di 400 euro. Ringraziamo gli agenti della Municipale, commenta il sindaco di Cortona, Luciano Meoni. Occorre ribadire l'importanza del rispetto delle regole, non è infatti il momento di abbassare la guardia. Benché la vaccinazione sia arrivata ad un buon livello, non è il momento di prendersi delle libertà che non ci spettano. In questa situazione ciascuno è responsabile per sé e per la salute degli altri. Gli agenti si dimostrano vicini alla popolazione, conclude l'assessore alla Polizia Municipale Alessandro Storchi, e sempre pronti a tutelare i più deboli.